Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, processo penale Chiara-Ferrani e altri, questione del pandoro, questione delle uova di Pasqua, vi era già stato un risarcimento tempo fa o comunque una devoluzione di denaro all'epoca dei fatti con le dichiarazioni della Ferragni o d'altro. Ora arriviamo in Tribunale. Avviso di conclusione delle indagini preliminari. Reato truffa aggravata, si parla di pubblicità ingannevole, si parla di aver danneggiato i consumatori con delle indicazioni fuorvianti con un profitto presunto di oltre 2 milioni di euro e un ritorno d'immagine chiaramente per questo tipo di attività. Dicevo avviso conclusione delle indagini preliminari. Non è una sentenza di condanna. Semplicemente la Procura dice all'indagato e al difensore dell'indagato degli indagati questo è il fascicolo, queste sono le indagini, valutatele e decidete poi che cosa volete fare a livello di strategia difensiva. Ovviamente il fascicolo verrà valutato dai difensori, il termine di 20 giorni non obbligatorio per presentare una memoria scritta per articolare le proprie difese o per chiedere di essere interrogati. Vedremo quindi quella che sarà la strategia difensiva di Chiara Ferragni e di altre persone indagate in questo procedimento penale e da qui poi si svilupperà il tutto. Chiaramente la difesa nega ogni responsabilità dicendo questa questione è già stata discussa ed affrontata all'epoca del risarcimento.